Ciao a tutti, Junior Dos Santos! Dunque, delle incongruenze le troviamo, no? Avevo già pubblicato queste immagini che ovviamente avranno visto solo coloro che sono iscritti sul mio canale, perché parliamo appunto di questo mito, di questa mitologia di Afonso che riceve questa visione. Ora, parlando con una carissima amica, abbiamo tratto delle conclusioni che poi ovviamente non sono riuscito ad arrivare al dunque, ma ovviamente sa di manipolazione della chiesa romana che trasporta questo mito da millenni. Innanzitutto, la cosa che trovo interessante nel cambiamento delle bandiere, perché io avevo già parlato in passato, che la bandiera brasile rappresenta, ma forse è stato un intuito, perché io pensavo solo alla bandiera che abbiamo oggi, cioè quella classica verde, gialla, blu e bianca con le stelle e con la striscia. Perché secondo me c'era già la realtà lì e secondo me ci arriveremo. Perché dopo questa fantomatica promessa di terre da conquistare, anzi non da conquistare, da popolare, ecco perché la storia brasiliana ritengo sia sbagliato che dice che è una colonia, che l'Indios furono sfruttati, ovviamente c'è stato, questo sicuramente, perché uno arriva e quello lì, ma la promessa della terra vuol dire che quella terra è da popolare. Il discorso è che vorrei riprendere qua una pagina, che appunto è recente, questo è un sito globalista che parla che una ricerca rivela civilizzazioni antiche con fino a un milione di abitanti in Amazzonia. Ora, riuscite a immaginare Torino in mezzo all'Amazzonia, un milione di abitanti, ed è una scoperta singola, singola scoperta. Quindi appunto qua dice per la prima volta furono incontrati vestigi, resti di popolazioni che vissero lontani dai principali fiumi amazzonici. Ecco, se immaginate l'Europa nel Medioevo, una città lontana ai fiumi, ce ne sono poche e rare. Sono più che altro dei fortificazioni, perché era l'ultima piedina dello scacco da battere. E quindi ciò succedeva anche lì. Appunto, sono fortificazioni in cui poi hanno trovato ceramiche e strutture che, ecco qua, il sito globalista che dice che possono essere viste solo dal cielo. Ora, questa notizia è del 28 marzo 2018. Ok? Ma scusate, i satelliti da quando esistono? Da quando? E non hanno mai visto? Va bene. Quindi, allora, queste foto sono state trovate dai fantomatici attuali satelliti di Google per la mappazione dell'Amazonia. Ma non sono satelliti. Arriviamo dunque qua sulla notizia. Perché la notizia riguarda appunto i discorsi che dicevo di prima. Ci sono queste entità che praticamente utilizzano l'immaginario. A quel tempo si utilizzava questo immaginario. I successivi sono alieni, ma è un immaginario. E loro sfruttano il nostro immaginario e si rappresentano come vogliono. Come disco volante, come apparizione mariane, come vogliono. Perché dipendono dalla nostra immaginazione. Comunque, tornando alla notizia, perché ovviamente dovevo attaccare questi globalisti. Cioè, buona parte dell'Amazonia è ancora un mistero per gli archeologi. Anche perché ci viene insegnato che Portogallo ha colonizzato il Brasile, ha decimato l'Indios. Ciò che poi non è vero. Perché innanzitutto nella storia riguarda che nel 1100 queste entità hanno promesso il Brasile. 1100. Da quello che so, e qua il sito globalista sbaglia, perché vuole indurci a pensare che la popolazione è stata decimata dagli europei, ciò non è vero. Pensate, 4-5 barche, 100 barche, quello che volete. In Amazone cosa hanno trovato? Un pezzo di terreno in cui potevano starci un milione di abitanti. Vabbè, hanno calcolato due o tre forse. Ma pensate che ce ne sono tanti altri che ne stanno scoprendo uno dietro l'altro, perché i satellici ce ne sono da decina, cinquantina d'anni, chissà come o mai appaiono solo adesso. Comunque, ce ne sono tanti. ci sono piramidi in Amazone, c'è una civiltà che è stata spazzata via nei meandi dell'anno 1000. Qua il sito globalista lo dice, simbano che queste società vissero dal 1250 al 1500. cioè, pensate, provate a immaginare una popolazione che nasce dal nulla, dal nulla, nasce dal nulla, dal 1200, cioè 250 anni hanno vissuto ed erano un pezzo un milione. La matematica per i globalisti proprio non funziona, la giocano come vogliono. Comunque, volendo tornare al discorso dei satelliti che stanno scoprendo queste civiltà antiche, brasiliane, ogni tanto qualcuno ci casca. ok? Ogni tanto qualcuno ci casca. Secondo voi è un satellite? Geostazionario? Gravitazionale? Insomma, come volete voi? I satelliti, ecco dove scoprono le nuove civiltà brasiliane. Comunque, va bene. Quindi, ritorna da noi qualcuno, qualche entità. Io mi ricordo, non lo so, perché io so che in quella cultura, in quel pezzo di terra promessa in quel tempo, prima dei portoghesi forse facevano un po' di sacrifici, forse erano troppo antichi, quindi dovevano aggiornare la cultura attuale. E gli è stato promesso. Prima li erano decimati. Puff, fatti fuori i flupi. Gli indios che hanno trovato i portoghesi erano solo quelli dispersi, cioè quelli provinciali. e va bene. Penso di concludere qua, poi approfondiremo nei prossimi giorni. Per me è tutto. Buona vita a tutti.